Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Hai presente tutti quei momenti in cui, per un motivo o per un altro, avresti potuto rischiare di morire, magari pure in modo stupido? Come quando cerchi di entrare nella doccia e ti rendi conto che non c'è il tappeto antiscivolo, rischiando di cadere e battere la testa? Oppure, quando vedi scintille elettriche uscire dal moltiplicatore di prese e di corrente nel quale hai appena inserito una spina? O ancora, quando qualcosa di pesante cade vicino ai tuoi piedi lasciandoti in leso? Gli esempi sono davvero infiniti. Pensi che siano tutte coincidenze? Non è sempre così. Nel mondo ci sarà sempre qualcuno per cui la tua presenza è di troppo e per questo cercherai in ogni modo di ucciderti. Prima proverà a far passare la cosa per un incidente, poi però deciderà di mettere fine alla tua esistenza in maniera brutale. Poco importa se verrà scoperto o meno. Stai attento, perché questa persona potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Un po' come quell'uomo col coltello alle tue spalle. Stai attento, perché questa persona potrebbe essere più vicina a la tua esistenza in maniera brutale. Stai attento, perché questa persona potrebbe essere più vicina a la tua esistenza in maniera brutale.